Dopo i segnali di apertura del Partito Democratico verso il Movimento 5 Stelle, pare che l'alleanza per le elezioni di settembre sia sfumata. O meglio, come precisa la candidata al Consiglio regionale, Marta Ruggeri, ai pentastellati non è neppure arrivata una richiesta ufficiale. Di conseguenza, un confronto con i Dem non è mai iniziato. Il Partito Democratico sarebbe disposto ad azzerare la sua classe dirigente, quella che ha dimostrato di aver fallito in questi anni, visto che stanno temendo seriamente di perdere la Regione. È disposta a fare un'inversione adù su quelli che sono i temi sensibili, quelli che hanno portato la cittadinanza all'opposto. Insomma, se oggi si dice che la Regione potrebbe passare ad altri partiti, è evidente che gli attuali governanti hanno sbagliato qualcosa. Il tema sanitario è sicuramente il vulnus della scorsa legislatura. Pensiamo, ha proseguito Ruggeri, all'uscita pubblica che ha fatto il candidato governatore del centro-sinistra Maurizio Mangialardi alla clinica privata riabilitativa Santo Stefano. Questo per i grillini è un gesto simbolico inaccettabile. All'indomani dell'emergenza sanitaria legata al Covid, in cui si è dimostrato che l'organizzazione sanitaria pubblica ha bisogno di un potenziamento. Iniziare la campagna elettorale con una visita ad una clinica privata secondo noi è proprio insostenibile. Ecco, noi siamo all'opposto. Vi sentite più vicini quindi al centro-destra? Allora, su alcuni temi formalmente sembriamo più vicini, nel senso che sembra un controsenso, però pare che sia al centro-destra difendere la sanità pubblica così come stiamo facendo noi da anni. Però vorrei ricordare che nel progetto sanitario non c'è solo il discorso pubblico e privato, ma l'idea anche della riorganizzazione sanitaria. Quindi alcuni candidati che saranno nelle liste del centro-destra, soprattutto della Lega, sono ex assessori della Giunta Guzzi che hanno avvallato il progetto di ospedale unico. Sono stati coloro che hanno avvallato il depotenziamento dei piccoli ospedali, la chiusura dei piccoli ospedali, della valorizzazione del Santa Croce che voleva dire in parole povere la vendita dell'ospedale per fare cassa e dare il via ad una grandissima speculazione edilizia perché lì si sarebbero dovute costruire appartamenti di lusso. Ecco, questi sono alcuni dei personaggi che troveremo in lista nel centro-destra. Quindi a parole siamo tutti vicini, nei fatti la coerenza che abbiamo dimostrato noi negli anni non la può dimostrare nessun altro.